La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali messe dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, sezione seconda reatti contro la pubblica amministrazione, nei confronti di 11 persone, di cui 4 sottoposte alla custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, gravemente indiziate a vario titolo, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario al dovere d'ufficio e traffico di influenze illecite. Il provvedimento è stato messo all'esito di articolate indagini che avrebbero fatto emergere, turbative nella gara per la concessione del rione terra di Pozzuoli, ipotesi di corruzione per ottenere la giudicazione di altra pubblica concessione, intermediazioni illecite sia per l'affare della conversione in struttura alberghiera del rione terra, sia per ulteriori appalti pubblici. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare risposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva.